Ciao, ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale, sono Silvia. Oggi ti propongo una sequenza di pilates dedicata agli addominali, ma più in generale al core, quindi a quella sequenza, a quella serie di muscoli che ci permettono di mantenere la postura in allungo, quindi non solo addominali, ma anche dorsali e rettori della colonna, estensori della colonna. Quindi lavoreremo in diverse posizioni sul tapetino proprio per poter usare la porta del nostro corpo e il peso corporeo e la forza della gravità per lavorare questa muscolatura. Prima di partire ti ricordo che nella descrizione di questo video trovi il link a Nuvola Pilates, la mia scuola online, dove trovi video di pilates tradizionale, di fusioni con lo yoga e con la danza. Puoi fare una prova gratuita di 7 giorni per visionare tutti i contenuti e poi decidere se iscriverti al mensile o prolungare nel semestrale e nell'abbonamento annuale. Direi che siamo pronti per partire, quindi srotola il tuo tapetino e iniziamo ad allenarci insieme. Partiamo dalla posizione seduta, con le gambe leggermente separate, in linea con le tue anche, afferra un secondo la parte posteriore delle tue cosce e raddrizza la tua schiena. Quindi cerca l'appoggio degli ischi verticali delle ossa del bacino e usa questo tiro, questo gonfiare leggermente i tuoi gomiti proprio per tirarti sulle braccia e allungare dal centro della testa, quindi cerca sempre quella piccola retrazione del tuo mento, quindi quella nuca che spinge un pochino indietro, come se avessi un muro dietro di te, proprio per allineare la testa sulle tue spalle. E da qui andiamo a cercare una piccola estensione, quindi una sorta, è un'estensione, una flessione della zona lombare, quindi inspira e stendi a livello dorsale e cervicale, fuori l'aria retroversione, andiamo a portare il peso verso l'osso sacro, le mani qui sono libere, andiamo a sostenere con gli addominali. Inspira, estendi delicatamente e fuori l'aria retroversione, porta lo sguardo verso il tuo bacino, avanti ancora, inspira e stendi, fuori l'aria retroversione e ancora, inspira, allungati bene verso l'alto, fuori l'aria ombelico alla tua colonna e respira ancora in e spai su, fuori l'aria curva, ne facciamo ancora un paio qui, inspira, tira sempre sulle tue braccia per ritrarre leggermente le tue scapole e poi ombelico verso la colonna, risucchia l'addominale in dentro, ancora uno, inspira e stendi, fuori l'aria curva e dalla curva torna in posizione neutra. Qui le braccia, qui mantieni questa posizione di allungo e le braccia si allungano in avanti. Ogni volta che andiamo in retroversione portiamo una gamba a tavolino, quindi la tibia orizzontale, la coscia il più possibile verticale e quando torniamo su riportiamo il piede in appoggio. Cambiamo ogni gamba ogni volta, fuori l'aria su, inspira, ritorna. Quindi fai proprio il gesto di portare la coscia verso il tuo petto e ritorna su, ancora fuori l'aria scendi, inspira, risali, fuori l'aria scendi, inspira, riallunga. E quando torni non andare eccessivamente in avanti ma cresci verso l'alto, quindi usa la muscolatura degli addominali e degli erettori della colonna proprio per portarti su, fuori l'aria scendi. Facciamo gli ultimi due in questa prima variante, fuori l'aria scendi, inspira, risali e ancora fuori l'aria scendi, ritorna su. Aggiungiamo un movimento delle braccia, quindi scendi con la gamba destra che ti accompagna, apri le tue braccia rimanendo in posizione, ritorna con le braccia a chiudersi e torna con la schiena dritta. Cambiamo gamba, fuori l'aria, puoi inspirare qui gestendo con gli addominali il peso delle braccia, ritorna al centro e riallunga. E avanti scendi, apri, chiudi e ritorna e ancora scendi. Apri, chiudi e risali. E avanti scendi, apri, chiudi, torna su. Ancora scendi, apri, chiudi. Ultime due sequenze, destra e sinistra. Scendi, apri, chiudi e riallunga. E avanti scendi, apri, chiudi, torna su. E se vuoi rilassa un secondo le tue braccia, ruota le spalle un paio di volte. Qui, allunga bene le braccia in avanti. Andremo a fare un passaggio indietro in cui dalla retroversione appoggia i tuoi gomiti, solleva le tue gambe a tavolino, rimanendo in un parallelo leggermente separato. Quello delle tue anche. Torna in appoggio e allunga. Puoi portare le braccia verso il soffitto. E le braccia scendono, retroversione, appoggia i gomiti, solleva le tue gambe. Tira le punte dei piedi, torna giù, proietta bene il bacino verso il neutro, allunga bene verso l'alto. Riprendiamo. Scendi, appoggia i gomiti, solleva. E attenzione sempre a non caricare la schiena ma a tenere gli addominali. Quando fai movimenti di transizione, soprattutto quello che torna. Quindi scivola indietro, scarica bene le tue spalle qui. E di nuovo riappoggia, allungati verso l'alto. Lo facciamo ancora un paio di volte. Di nuovo scendi, appoggia i gomiti, solleva, torna in appoggio con le tue gambe, allunga verso l'alto. E facciamo l'ultimo. Scendi, torna su, appoggia i tuoi piedi, riallunga. E questa volta, rimanendo con le gambe appoggiate, andiamo ad appoggiare i suoi gomiti. Rimaniamo qui un secondo. Sistemiamo bene la posizione del bacino. Non andare eccessivamente in retroversione, ad appoggiare troppa zona della colonna sul tappetino. Addominali attivi. Una gamba a tavolino, l'altra gamba a tavolino. Possiamo rimanere sempre in quel parallelo leggermente separato. Two taps. L'angolo di 90 rimane lo stesso. Una gamba si sposta verso il petto, l'altra gamba si allontana. L'idea è quella di portare la punta del piede a sfiorare il tappetino. Non è obbligatorio andare ad appoggiare. Vai solo fino a dove senti che non ci sono carichi sulla zona lombare, che la zona lombare è protetta dal lavoro dei tuoi addominali. Intanto scarica bene le tue spalle. Respira. Ancora. Per otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ritorna con le gambe in tavolino, appoggia un piede, appoggia l'altro. E da qui andiamo a sdraiarci a pancia in su. E puoi sistemare uno spessore sotto la tua testa se quando sei in posizione supina senti il bisogno di migliorare la posizione della tua cervicale. Cominciamo ad andare in una piccola retroversione. La sicurezza di attivare bene i nostri addominali. Una gamba a tavolino, l'altra gamba a tavolino. Unisci le tue gambe. Afferra un secondo la parte posteriore delle cosce e solleva il busto. Quindi vieni su. Cercheremo di raggiungere questa posizione quando siamo in flessione del torace. Quindi registra questa posizione in cui il margine inferiore della scapola è ancora appoggiato levemente sul pavimento. Ma tutta la zona del torace è in flessione. Quindi le coste vanno verso il bacino. E da qui riappoggia la tua testa. Metti le mani dietro la nuca a supporto della tua cervicale. Ogni volta che il busto sale in questa posizione la tua gamba destra allunga. Inspira, prepara. Fuori l'aria, stendi la tua gamba e guarda verso quella gamba. La prossima volta che la tua gamba si allunga noi andiamo a ruotare verso sinistra. Fuori l'aria, intorsione. Inspira, torna giù. Un sollevamento del busto dritto, centrale. Inspira, ritorna. Uno in rotazione verso il tuo ginocchio sinistro. Fuori l'aria. Inspira, scendi. E ripartiamo. Fuori l'aria, allunga. Inspira, ritorna. Fuori l'aria, di nuovo allunga. Ruota. Inspira, scendi. Ancora. Fuori l'aria, sali. Inspira, scendi. Rotazione. Ne facciamo ancora una sequenza completa. Fuori l'aria, sali. Inspira, scendi. La prossima volta che sali ti fermi su. E da qui andiamo a scambiare busto e gambe per otto volte. Scambia per uno. Scambia due. Quindi il nostro obliques. Tre. Avanti, ruota. Quattro. Scambia cinque. Avanti sei. Ancora scambia sette. Otto. E qui piega le ginocchia. Puoi ingrociare le caviglie. Tirare un secondo le gambe al petto. Andiamo proprio a darci un pochino di massaggio alla zona lombare. Prima di ripartire con l'altra gamba. Quando sei pronto, porta le gambe di nuovo in tavolino. Sistema bene la tenuta dei tuoi addominali. Andiamo a riportare le mani dietro la nuca. Quindi tutta la sequenza con la gamba sinistra. I gomiti sono leggermente staccati dal tappetino. Inspira, prepara. Fuori l'aria. Stendi la tua gamba sinistra. Il busto sale dritto. Inspira, ritorna. E andiamo a ruotare verso il ginocchio destro. Fuori l'aria. Pensa di portare, quando vai in rotazione, più che il gomito, la tua spalla verso il ginocchio opposto. Quindi spalla verso il ginocchio destro. Fuori l'aria. E ritorna. E ancora. Fuori l'aria. Salita dritta. Inspira, scendi. Fuori l'aria. Rotazione. Lo ripetiamo ancora una volta. Quindi la prima salita dritta. Sulla prossima salita in rotazione ci fermiamo e aggiungiamo obliques di nuovo. Inspira, prepara. E scambia per uno. Scambia due. Avanti tre. Ancora scambia quattro. Fuori l'aria. Cinque. Ancora scambia sei. Avanti sette. Scambia otto. Richiama le gambe al petto. E anche qui appoggia un secondo. E massaggia, se vuoi, delicatamente il tuo tratto lombare. E da qui torniamo verso la nostra posizione di tavolino con le gambe. Andiamo verso double leg stretch in cui il nostro busto sarà sempre sollevato ma andremo a portare le braccia e le gambe in due direzioni opposte. Quindi solleva il busto come abbiamo fatto prima. E qui tira in realtà le gambe. Sciogliendo il tavolino e tirando le gambe un pochino di più verso il petto. Da questa posizione allunga braccia e gambe in direzioni opposte. Fuori l'aria. Ritorna a riabbracciare le tue ginocchia. E ancora fuori l'aria. Stendi. Inspira. Ritorna. Avanti. Fuori l'aria. Tre. Tieni la schiena, se possibile, incollata sul tappetino. Fuori l'aria. Allunga. Lo sguardo sempre in avanti verso le tue gambe. Avanti. Fuori l'aria. Stendi. Inspira. Ritorna. Facciamo gli ultimi tre, se possibile. Allunga. Inspira. Ritorna. Ancora fuori l'aria. Gli ultimi due. Inspira. Ritorna. E ne facciamo ancora uno. Allunga. Ritorna. E qui appoggia la testa. Rilasta. Puoi dondolare anche il tratto cervicale per massaggiare un pochino, sciogliere un pochino. È normale che i flessori del collo si attivino. L'importante è che non ci siano sofferenze a livello posteriore, proprio sulla cervicale. Riappoggiamo un secondo i piedi. Possiamo prenderci sempre un momento per dondolare il bacino e con le gambe che dondolano a loro volta verso destra e sinistra, proprio per sciogliere un pochino il tratto lombare della colonna. Ritorna al centro. Ora, da qui, cominciamo a riportare le gambe in tavolino. Riportiamo le mani dietro la nuca. Stendiamo le gambe verso il soffitto. Andremo a far scendere la nostra gamba destra, come prima abbiamo allungato la gamba destra, e andremo a fare una flessione dritta, una flessione verso sinistra, verso la gamba che rimane stesa verso il soffitto. Inspira, prepara. Fuori l'aria, la gamba destra scende, il busto sale dritto. Ritorna giù. Andiamo a ruotare verso sinistra mentre la gamba destra scende. Inspira, scendi. Avanti ancora. Fuori l'aria, sali. Inspira, ritorna. Fuori l'aria verso sinistra. E di nuovo scendi. Ancora fuori l'aria, sali. Inspira, ritorna. Fuori l'aria, rotazione. Inspira. Ne facciamo ancora una sequenza completa. Fletti bene quel torace avvicino alle coste e al bacino. Torna giù. E andiamo in rotazione. La prossima volta che sali, aggancia la tua gamba sinistra. Fermati qui, stabilizza il busto. Andiamo a scambiare per otto volte le nostre gambe, sforbiciando. Scambia per uno. E scambia due. Il busto è assolutamente stabile. Tre. Scambia quattro. Avanti scambia cinque. Ancora sei. Avanti sette. Scambia otto. Tira un secondo le gambe al petto. E ci riposiamo un secondo prima dell'altra gamba. Quindi, quando è possibile, riporta le gambe in tavolino. Accertati di avere quella tenuta muscolare nell'addome. Stendi le gambe verso l'alto. Mani dietro la nuca. Quindi, la gamba sinistra scende. La gamba destra rimane. Il più possibile è stesa. Non è importante che le gambe siano distese. Puoi tenerle morbide. Inspira, prepara. Fuori l'aria. La gamba sinistra scende. Il busto sale. Inspira, ritorna. E andiamo a ruotare verso il ginocchio destro, verso la gamba destra. Inspira, scendi. Ancora fuori l'aria su. Inspira, ritorna. Fuori l'aria ruota. E ripasso dal centro. Ancora fuori l'aria. Refletti bene il torace. Inspira, torna. Fuori l'aria verso destra. Ne facciamo ancora una sequenza. Fuori l'aria. Sali. Inspira, scendi. Fuori l'aria ruota. E la prossima volta che sali, porta le mani ad agganciare la tua gamba destra. Tira la verso di te. Stabilizza il busto. Inspira. Otto scambi delle gambe. Fuori l'aria. Uno. E scambia due. Avanti tre. Ancora scambia quattro. Avanti cinque. Ancora scambia sei. Fuori l'aria sette. Otto. E anche qui ripiega le gambe. Tirale al petto. E rilassa. E puoi dondolare sempre i due tratti della colonna che vengono sollecitati. Quindi quello cervicale e quello lombare. Cercando di togliere tutte le tensioni. E da qui, vieni a sederti. Andremo a girare sul fianco sinistro. Quindi ci appoggiamo sul fianco sinistro con l'avambraccio sinistro appoggiato. Scarica bene le tue spalle. Le gambe partono. La gamba sopra distesa. La gamba sotto invece piegata. Quindi cerca un appoggio solido sulla gamba sotto. Cerchiamo l'allineamento spalla, anca, caviglia. Tutto in una linea continua. La tua mano destra può rimanere sul fianco, dietro la nuca o allungata verso l'alto. Assolutamente la tua scelta. Ricordati che se la cervicale dà fastidio, puoi ruotare lo sguardo verso il tuo tappetino, senza seguire con il busto. Quindi da qui, inspira, prepara ed espira, solleva. Quindi usiamo l'obliquo sinistro per sollevare il bacino e ritorniamo giù. Ancora fuori l'aria, sali. Inspira, scendi, avanti, fuori l'aria 3 e ritorna. Ancora sali, 4, inspira, scendi. Quindi senti che la spinta arriva proprio dal fianco e ritorna. Ancora tre volte, fuori l'aria su. Inspira, scendi. La tua gamba destra è bene allungata. Anche solo con la pinta appoggiata. Fuori l'aria, sali, ritorna. O sul prossimo a salita ci fermiamo su. Quindi solleva e cominciamo a sollevare la gamba a destra per otto volte. Sali e scendi. Fuori l'aria 2 e ritorna. Ancora sali 3 e torna. Avanti 4. Ancora sali 5 e ritorna. Fuori l'aria 6. Ancora sali 7, mantieni l'allineamento 8. Riappoggia il piede, riappoggia il tuo bacino. E da qui andiamo a sdraiarci un pochino più giù. Allunga tutte e due le gambe. E allunga il braccio sinistro oltre la tua testa. Quindi andiamo ad appoggiare. La mano destra è qui davanti. Attenzione a non perdere quell'allineamento spalle, anche caviglie. Qui ovviamente siamo in una superficie un pochino più rotonda. Siamo sulla testa del fiemore sinistro. Quindi attenzione a mantenere l'equilibrio. E andiamo a fare una flessione laterale in cui solleviamo sia le gambe che il busto. Aiutandoci con la spinta delle braccia sul tappetino e sul pavimento. Inspira qui ed espira fuori l'aria. Solleva. Quindi questa volta è l'altro obliquo, il destro che ci porta su. Ancora fuori l'aria. Sali 2. Inspira, scendi. E avanti fuori l'aria 3. Inspira, ritorna. Avanti ancora fuori l'aria 4. E ritorna giù. Avanti ancora fuori l'aria 5. Se possibile ne facciamo altri 3. E ancora fuori l'aria 6. Inspira, ritorna. Avanti ancora sali 7. Inspira, scendi. Ne facciamo ancora uno. Fuori l'aria 8. Ritorna giù. E qui piega un secondo le tue gambe. Aiutati con le braccia per salire. Quindi tieni le ginocchia piegate. Andiamo solo ad allungare un pochino quell'obliquo sinistro. Allungheremo poi anche il destro nella parte finale o nella prossima sequenza. Quindi guarda verso i tuoi piedi. Fermati qui. E poi ritorna su. E andiamo a fare questa piccola sequenza dalla parte opposta. Quindi prepara l'avambraccio destro. La gamba destra bene ripiegata. La gamba sinistra allungata. Spalla, anca, caviglia. Scarica bene le tue spalle. Ricordati la posizione alternativa della tua testa. Mano dove preferisci. Ricominciamo con il sollevamento del bacino. Quindi inspira, prepara ed espira fuori. L'aria solleva. Inspira, ritorna. Fuori l'aria sali 2. Accompagna bene il ritorno. Ancora sali 3. E ritorna giù. Ancora fuori l'aria 4. Quindi senti la spinta dall'obliquo destro. Avanti sali 5. E ritorna. Ancora fuori l'aria 6. Ultimi due così. Avanti ancora sali 7. Sul prossimo ci fermiamo su. E andiamo a sollevare la nostra gamba sinistra. Per 8 volte. Fuori l'aria 1. E ritorna. Quindi facciamo lavorare anche la parte laterale del gluteo. Ancora sali 3. E scendi. Avanti 4. Ancora sali 5. E usa il respiro. 6. Avanti. Sali 7. E ritorna. 8. Ritorna. Appoggia il tuo bacino. Scendiamo. Quindi andiamo ad allungare entrambe le gambe, il braccio oltre la tua testa. Fermati qui. Quindi cerca di allineare bene, di sentire il lavoro degli addominali e di usare le braccia per non cadere in avanti o indietro. Scarica bene le tue spalle. Inspira. E fuori l'aria. Solleva il busto e le gambe. Flessione laterale. L'idea è che tu possa avvicinare la spalla sinistra al tuo fianco. Fuori l'aria 2. Inspira. Scendi. Ancora fuori l'aria. Sali 3. E ritorna giù. Avanti ancora. Fuori l'aria 4. Tiri le spalle bene lontane dalle tue orecchie. Quindi la spalla sinistra in particolare. Fuori l'aria 5. E gli ultimi 3 anche da questa parte se possibile. Fuori l'aria. Sali. Inspira. Scendi. E ancora gli ultimi 2. E ritorna giù. E ne facciamo ancora uno. Fuori l'aria. Sali. Ritorna. Anche qui piega le tue ginocchia. Vieni a sederti. Quindi gambe rimangono in questa posizione un po' sirenetta. E andiamo ad allungare tutto il lato destro. Puoi guardare verso i tuoi piedi per sciogliere un pochino anche il tratto cervicale. E poi torna su. E da qui andiamo verso la posizione prona. Quindi se dovessi sentire fastidio nella zona della lombare puoi mettere uno spessore sotto alla zona delle cresteliache che lasci il pube invece libero. Quindi da qui comincia a sdraiarti. Porta le tue gambe leggermente a separarsi in un parallelo magari un pochino più ampio delle tue anche. E sfiora con la punta del naso il tappetino. Le braccia sono piegate. Gli avambracci completamente appoggiati. Quindi cominciamo da una posizione di depressione delle scapole. Cerchiamo di portare le spalle lontane dall'orecchia. Quindi siamo già in una piccola estensione del nostro torace. Fermati qui. Andiamo a sollevare solamente le braccia, gli avambracci. Quindi fuori l'aria sali. Inspira, scendi. Fuori l'aria sali due. E ritorna. Avanti ancora sali tre. Quindi senti che le gambe sono attive. I glutei sono attivi. Tutta la muscolatura posteriore si sta attivando. La cervicale è lunga. Quindi il tuo sguardo è proiettato sul tappetino. Ancora fuori l'aria. Senti che le scapole ritraggono. Ancora gli ultimi tre. E ritorna in appoggio. Ancora gli ultimi due. E ritorna. Ne facciamo ancora uno così. Sali. E scendi. Ora l'idea è quella di sollevare in questo modo le braccia. Ma di sollevare bene l'estensione il nostro torace. Proviamo a inspirare quando saliamo. Quindi inspira. Solleva busto e braccia insieme. Fuori l'aria scendi. E di nuovo inspira. Solleva. Fuori l'aria ritorna. E avanti ancora. Senti tutta la muscolatura che avvolge la cassa toracica che sta lavorando. E ritorna giù. E di nuovo ancora. Sali. E scendi. E avanti ancora gli ultimi tre. Anche in questa variante. Ritorna giù. Avanti gli ultimi due. E ritorna. Prova a salire ogni volta un millimetro in più. Con il busto sali e scendi. Ultima piccola variante. Nel momento in cui sali, allunga le braccia verso le tue gambe. Ripiegale. E poi ritorniamo giù. Quindi di nuovo solleva. Allunga le braccia. Prova a salire un pezzettino in più con il busto. Ripiega i gomiti. Torna. Ancora. Respira liberamente. Allunga le tue braccia. Ripiega. E ritorna giù. Ultimi due. Solleva. Allunga. Cresci ancora con quel busto. Ripiega i gomiti. E scendi. E ne facciamo ancora uno. Sali. Allunga le tue braccia. Ripiega. Ritorna. E da qui chiudi le tue gambe. Appoggia le mani sotto alle spalle. Spingiti indietro. Apri le tue ginocchia leggermente. E andiamo a curvare la colonna indietro. Puoi lasciare le braccia in avanti. O portarle sotto la fronte. O lungo i fianchi. Dove preferisci. Proprio per andare a massaggiare un pochino. Sia il tratto lombare. Sia scaricare un pochino anche il tratto cervicale. Quindi puoi massaggiare la tua colonna. Ruotando. Andando a dondolare un pochino destra e sinistra. E poi. Chiudi le tue ginocchia. E trascinando delicatamente le mani verso le ginocchia. Sdrotola verso l'alto. Torna su. Ritrova l'allungo. L'apertura del petto. Rimani qui. Andiamo a ruotare un paio di volte le spalle indietro. E ci fermiamo in quadrupedia. Quindi sistema bene la posizione delle mani sotto alle spalle. Le ginocchia in linea con le tue anche. Lo sguardo appena oltre le tue mani. Quindi spingi via il tappetino. Trova quella posizione di scarico delle spalle. Di mento che retrae leggermente. Di sostegno degli addominali. E qui andremo a fare un passaggio. Una combinazione. Punta i tuoi piedi. Comincia a fasciare bene la tua zona addominale. Inspira, prepara. Ed espira. Solleva le tue ginocchia di tre centimetri. Ritorna in appoggio. La gamba destra stende indietro. Ritorna in appoggio. Un sollevamento delle ginocchia. Quindi un movimento centrale. Ritorna giù. Alterniamo gamba. Stendi la gamba sinistra. E riportala al centro. E di nuovo fuori l'aria. Sali. Cerca di mantenere la stessa attivazione addominale anche quando allunghi la tua gamba indietro. E ritorna. E di nuovo solleva le ginocchia. Ripassa dal centro. Allunga. Punta bene il piede se possibile. Ritorna. Dalla prossima un movimento proviamo a fare il swimming prep completo. Quindi allunga anche il braccio in opposizione. Quindi stendi braccio e gamba opposti. Ritorna giù. E di nuovo solleva. Riappoggia. Altra combinazione di braccio e gamba. E ritorna giù. E di nuovo solleva. E riappoggia. Allunga braccio e gamba. E ritorna. E ancora l'ultimo. Solleva. Riappoggia. Allunga. Ritorna. E rilassa. Un secondo. Anche qui puoi prenderti un attimo per togliere il peso dalle tue mani. Ruotare i tuoi polsi. E dondolare un pochino sempre la zona lombare. Torniamo verso il plank. Verso quadrupedia per fare una piccola sequenza di plank. Quindi da qui ritrova bene quella spinta del tappetino. Andiamo ad allungare una gamba e l'altra. Quindi andiamo verso la nostra posizione di plank. Glutei ben attivati come se volessi fare una retroversione. Andiamo a fare quattro movimenti in cui portiamo il ginocchio verso il tappetino. Alterniamo. E tre. Torna su. Quattro. E andiamo a fare quattro movimenti di mountain climber in cui il piede si stacca, viene in avanti. Ginocchio verso lo sterno. Ritorna. Fuori l'aria. Due. Avanti. Tre. E ancora quattro. Ritorna bene in plank. Rifacciamo il nostro tap del ginocchio per uno. E ritorna. Due. Respira. Avanti. Tre. E ritorna. Quattro. E mountain climber per quattro. E riallunga. Tre. Ancora gli ultimi due. E ritorna. Uno. Ripetiamo ancora una volta. Scarica bene le tue spalle. Tap del ginocchio per uno. Ancora due. Avanti. Tre. Ancora respira. Quattro. E mountain climber per uno. Riallunga. Due. Avanti. Tre. Ancora quattro. Ritorna. Appoggia un ginocchio. Appoggia l'altro. E andiamo ad allungare indietro. Sciogliamo un pochino. Sempre la posizione delle tue mani. Quindi puoi ruotare i tuoi polsi di nuovo. Abbiamo ancora una piccola sequenza in plank. E poi andremo verso la nostra sequenza finale di stretching. Qui srotola indietro un secondo. Ruota le spalle indietro. Ritrova bene quell'apertura nel petto. Un po' di scioglimento nelle tue spalle. Dalla quadrupedia. Ritorniamo nel nostro plank. Quindi una gamba, l'altra gamba. Ora, estendiamo l'anca destra. Quindi solleviamo la gamba destra. Portiamo il ginocchio verso il gomito in opposizione. Andiamo di nuovo indietro. E ritorniamo in appoggio. Cambia gamba. Sinistra. Ruota il bacino verso la tua destra. Riallunga. E ritorna. E di nuovo la gamba destra sale. Rotazione. Ritorna indietro. E scendi. E avanti ancora su. Rotazione. Riallunga. Facciamo l'ultima sequenza per gamba. La destra sale. Rotazione. Riallunga indietro. Ritorna giù. E di nuovo sinistra. Ruota. Riallunga. Scendi. E da qui. Ripiega le ginocchia. E di nuovo vai ad allungare indietro. Per allungare un pochino di più la nostra zona delle spalle. Prova dalla quadrupedia a portare le mani un pochino più avanti. E a impennare il bacino verso l'alto. Puoi portare le dita delle mani in appoggio. E andiamo a strecciare un pochino la zona delle spalle. Non forzarlo. È un movimento molto particolare per le spalle. Quindi attenzione. Ognuno di noi ha un range di movimento molto diverso. Come se volessi portare la fronte o il naso verso il tappetino. Puoi fermarti qui per qualche secondo. Puoi sciogliere la posizione. E andiamo verso la posizione. Però ancora un secondo. Qui ci serve solo per strecciare un pochino gli addominali. Appoggia le mani. Questa è la posizione della sfinge. Quindi gli avambracci. E vai a cercare una piccola estensione lombare. Senza, se possibile, attivare eccessivamente i tuoi glutei. Lascia che la zona lombare estenda. Quindi le gambe sono attive ma senza esagerare. E quindi spingi verso l'alto. Stiamo cercando di allontanare i capi dell'addome. In modo da, degli addominali, in modo da estendere un pochino. E strecciare un pochino la muscolatura addomandale che abbiamo lavorato. Tenilo solo per qualche secondo. Le spalle allontanano dall'orecchia. Lo sguardo più o meno verso le tue mani. E poi da qui ritorna giù. Riunisci le tue gambe. Sali indietro. Curva nella posizione del fanciullo. Ritorna su. Siediti. Quindi portiamo le gambe a piegarsi. Come siamo partiti. Afferra le tue cosce. Quindi ritroviamo quella sensazione di allungo. Porta i piedi a martello. E vai ad allungare le tue gambe fino a dove senti che la colonna non perde il suo allungo. Puoi tenere le gambe morbide se necessario per facilitare la verticale della tua colonna. Altrimenti allunga. Se le tue gambe sono appoggiate sul tappetino, spingi bene attivamente le ginocchia verso il basso e tira le punte dei piedi. Abbiamo le gambe bene attive. Porta le mani in linea con i tuoi fianchi. Inspira, cresci verso l'alto ed espira, curva in avanti. Porta le mani verso i tuoi piedi e oltre. Rilassa bene la tua testa. Fermati un secondo qui, inspira ed espira dal bacino verso l'alto. Ritorna su, apri bene il petto. Andiamo a fare una piccola estensione. Inspira, prepara, fuori l'aria curva in avanti. Rilassa bene testa, collo e spalle. Inspira, tienilo ed adesso dal bacino verso la testa. Ritorna sempre con quelle gambe attive. Ancora inspira, prepara, fuori l'aria curva. Vai bene giù. Inspira, tienilo ed espira dal bacino verso la testa, risali. Ora pieghiamo la gamba destra, la portiamo con la pianta del piede sulla coscia sinistra. Andiamo a raddrizzare il busto verso la gamba sinistra. Andiamo su con le braccia, quindi andiamo ad estendere un secondo il busto. Andiamo a curvare in avanti. Puoi appoggiare le mani sul tappetino, oppure agganciare una parte della tua gamba, a livello polpaccio, cabiglia, piede, dove ti è possibile, scaricando bene le spalle e cercando sempre di spingere il ginocchio verso il tappetino e il busto verso il ginocchio. Fermati qui un paio di respiri se possibile. E poi piano piano torna su. E qui il piede destro va oltre il tuo ginocchio sinistro. Afferra un secondo il ginocchio per raddrizzarti, per sentire l'appoggio di entrambi gli schi. Il braccio sinistro va o a braccia, oppure va oltre il ginocchio. E la mano destra va dietro, quindi sul tappetino. Spingi via, quindi stai spingendo via il ginocchio, stai spingendo via il tappetino e stai ruotando. Mantenendo però l'allungo di tutta la tua colonna. Quindi rotazione. Fermati qui, un paio di respiri. E poi torna al centro. Allunga la tua gamba destra. Porta la pianta del piede sinistro contro la coscia. Ruota, allinea bene il busto con la tua gamba destra. Cresci verso l'alto. E andiamo anche qui a curvare. E puoi appoggiare le mani sul tappetino di fianco alla tua gamba. O aggrappare sulla gamba e andare proprio a tirare un pochino il busto verso il tuo ginocchio. L'idea è che la punta del naso vada verso il ginocchio. Il ginocchio spinge verso il tappetino. Andiamo a strecciare bene tutta la zona dei fianchi e quella parte posteriore della tua gamba. E poi da qui srotola verso l'alto. Portiamo il piede sinistro oltre il ginocchio destro. Andiamo ad allungarci verso l'alto. Quindi puoi abbracciare il tuo ginocchio oppure portare il gomito oltre il tuo ginocchio. Andare a ruotare e spingere bene verso l'alto mentre mantieni la rotazione. Quindi la tua gamba destra è sempre attiva con il ginocchio che spinge verso il tappetino. Scarica le tue spalle e respira. E poi ritorna verso il centro. Unisci le piante dei piedi in una posizione di diamante. Quindi le gambe sono in una posizione di rombo. Allungati prima verso l'alto e poi curva in avanti. Quindi andiamo a strecciare un pochino quella zona delle anche. Lascia che la testa cada delicatamente verso i tuoi piedi. Fermati qui. Cerca di sciogliere tutte le tensioni. E poi torna su. Articola la tua colonna. Se possibile raggiungi una posizione a gambe incrociate. Puoi rimanere anche in ginocchio o sollevare il tuo bacino. Se ci sono dei fastidi nella zona lombare, nelle ginocchia o nelle tue caviglie. E qui ci prendiamo un attimo per sistemare la colonna in verticale. Ischi appoggiati. Le spalle lontane dalle orecchie. L'allungo della cervicale. Quel mento che va un pochino indietro. Il braccio destro sale. Andiamo ad allungare lateralmente. Quindi cerca di mantenere quella lungo verso una diagonale. L'ischio destro invece tira verso il basso. Ritorna su. E scendi. Il braccio sinistro sale a cornici. Andiamo a scaricare bene la spalla verso la quale stiamo andando. La spalla destra. Anche qui allunga quel braccio oltre la testa mentre tiri il dischio in appoggio. Quindi fianco tira da una parte. Il braccio dalla parte opposta. Ritorna. Ancora. Il braccio destro sale. Guardiamo questa volta il fianco sinistro mentre andiamo in allungo laterale. Ritorna al centro. Lo sguardo torna qui davanti. Cambia braccio. E anche qui puoi portare lo sguardo verso il fianco destro. E di nuovo torna su. Scendi. Ruotiamo di nuovo un paio di volte le spalle indietro. Portiamo le braccia su. Andiamo a unire i palmi delle mani oltre la testa. Tiriamo le mani qui davanti al petto. Molto bene. Ottimo lavoro. Grazie mille per essere stato con me durante questa sequenza. Spero ti sia piaciuta. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Lascia un like se il video ti è piaciuto. E se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale per supportarci. E attiva la campanella per ricevere le elplifiche sui prossimi video. Un abbraccio e ti aspetto al prossimo video. Spero di vederti prestissimo. Spero di vederti prestissimo.